Mimmo Serrao per commentare questa vittoria del Borgo Grecanico per 2 a 1 la Propellaro naturalmente non dirà più no a poter raggiungere la griglia dei playoff diciamo che matematicamente ad oggi ancora non siamo fuori obiettivamente perché mi pare che il San Gaetano oggi abbia vinto con Rosarno quindi siamo a 7 punti dal San Gaetano per cui ancora mancano 6 partite o 7 adesso non ricordo perfettamente noi ce le giocheremo tutte fino alla fine così come abbiamo fatto qui a Merito per cui fin quando la matematica ci dirà che non siamo più nella possibilità di entrare per l'off noi comunque lotteremo con tutte le squadre sia dentro sia fuori questo è chiaro Mister Antonio Cormaci non riesco a vederla felice come mai? Sono stanco, non sono felice, sono strafelice Una battaglia Sì, sì, mai sapevamo che affrontavamo una squadra destinata a costruire per vincere il campionato per fare i playoff quindi poi la classifica al momento non dice questo però noi dovevamo continuare la nostra sfiscia perché avremmo vanificato la vittoria di domenica scorsa con il San Michel quindi era importante vincere indipendentemente dai risultati o da tutto quello delle altre squadre perché noi siamo padroni del nostro destino noi sappiamo che se facciamo sempre il risultato vinciamo il campionato a questo punto quindi dobbiamo continuare a fare questo e pensare solo a questo il resto sono solo chiacchiere Grazie a tutti Grazie a tutti